Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del trappolone. Finalmente è arrivato il momento di un altro mix contest, ovviamente anche questa volta premi molto succulenti. A questo giro mixerete un brano dei One Morey che si intitola Your Dress, che è uno dei miei brani preferiti che ho prodotto negli ultimi due anni, quindi ci tengo molto e spero che lo facciate bene. Parliamo subito di premi, tanto so che è la cosa che vi interessa di più. Il primo classificato, quindi il più bravo di voi, il mix che preferiremo io e la band, vincerà un preamp warm audio Tombeast MK1, quindi la prima versione. L'ho comprato usato e adesso ve lo regalo come premio a un alimentatore fatto in casa, perché il ragazzo che me l'ha venduto l'ha comprato all'estero e poi si è fatto un alimentatore insomma homemade, però funziona benissimo, l'ho usato per un sacco, è un pre che adoro su qualsiasi cosa, super customizzabile. Potete farci veramente tutto, suona bene su qualsiasi cosa lo mettete, su qualsiasi microfono lo andate ad attaccare da un botto di volume, quindi secondo me è un super premio, soprattutto se avete bisogno di un preamplificatore con un suono bello caratteristico e soprattutto customizzabile. Secondo premio, una tastiera controller MIDI Nectar SE49, quindi in 49 tasti che funziona benissimo, anche questo usato, fondamentalmente ormai faccio questi contest per sbarazzarmi di un po' di roba che non utilizzo più, perché è anche giusto far girare un po' di cose piuttosto che venderle, no? Il terzo classificato invece vincerà un corso a scelta dalla VDSS Audio Academy, quindi in qualsiasi corso, in qualsiasi masterclass che lui voglia potrà sbloccarla sul suo account, ovviamente se non ha l'account glielo creerò io, e quindi un'opportunità per migliorarsi e magari vincere il prossimo mix contest e arrivare in prima posizione. Ora, parliamo un po' di tempi, questo video uscirà il 22, quindi vi darei una settimana, quindi direi che la scadenza per consegnare i mix è il 29 marzo a mezzanotte, quindi allo scoccare del 30 marzo non accetteremo più mix per partecipare al contest. Ovviamente i multitraccia per scaricarli, basta che cliccate sul link in descrizione, vi si aprirà un form in cui inserirete il vostro nome e la vostra mail e riceverete un link con le tracce da scaricare. Se non la trovate, cercate i spam, fate qualcosa però importante che facciate questa procedura correttamente perché ci permette di prendere nota di tutti i partecipanti in maniera abbastanza formale. Ora, segnatevi questa data, ve la faccio apparire anche in sovraimpressione, la diretta in cui comunicheremo i vincitori sarà il 5 aprile intorno alle 9.30 qui su YouTube, quindi partirà una diretta e insomma sentiremo i mix dei primi classificati che abbiamo scelto e poi comunicheremo il podio. Quindi terzo, secondo e primo classificato e quindi poi prenderemo tutti i dati per spedire i premi. Ora, l'invio delle tracce deve essere fatto a queste mail che trovate in sovraimpressione, quindi per forza questa mail non alla mail del mio studio, non alla mail della WDS Studio Academy, ma alla mail dei One Morey che vi faccio apparire qui. È molto importante questa cosa perché saranno loro a smistare tutti i file. Cerchiamo un po' di unire le forze perché in genere a questi contest partecipate in circa mezzo migliaio, a volte anche un migliaio, e quindi non posso smistare tutta questa cosa da solo e quindi mi daranno una mano i One Morey, visto che due di loro oltretutto sono anche miei assistenti part-time. L'invio del brano deve essere in MP3 320, mixato e masterizzato, non ci interessa la loudness, non ci interessa che il pezzo spari, va bene un meno 12 LUFS, se vi spingete di più sarà vostro rischio e pericolo perché comunque noi normalizzeremo tutti i volumi prima di ascoltare, e chiaramente se poi schiacciate troppo questo vi penalizzerà. Quindi cercate di mantenere una buona dinamica senza strafare perché comunque la loudness non ci interessa, ci interessa come suona il mix, ovviamente deve essere a un volume decente, ma non pompato a bestia, anche perché vedrete che è un pezzo molto dinamico, molto morbido e quindi bisogna rispettare quella sua vena. Ora andiamo un attimo ad anti al computer, giusto perché voglio farvi vedere il multitraccia che scaricherete, che cosa contiene, e descrivervelo un attimo in modo che vi guido anche alla comprensione delle tracce. Ok, questo è il file che andrete a scaricare, vedete l'ho lasciato a caricare su Mediafire e poi vabbè riceverete il link via mail compilando il form che trovate in descrizione. Cliccando su questo zip, quindi scompattandolo, troverete una cartella che appunto vi dice chiaramente 44,24, quindi le tracce saranno a 44.1 kHz, 24 bit, il BPM della canzone è 120 come potete vedere qui, e qui abbiamo le cartelle che dividono le varie tracce degli strumenti. Abbiamo il basso che è stato ripreso con tre microfoni, tutte le tracce sono assolutamente flat, quindi basso in diretta, basso high che sarebbe ripreso con un microfono più brillante che penso fosse il 57 in questo caso, e basso low che sarebbe il basso ripreso con un R20, quindi tre tracce per il basso. Per la batteria avremo un kick-in che era un Sennheiser, adesso non ricordo la sigla, comunque il Sennheiser per la cassa, un kick-out che in questo caso era un microfono a nastro di Doman, un RM qualcosa, quello che sembra un Royer, comunque per intenderci. Poi come snare top abbiamo utilizzato un Audi X-C5, snare bottom abbiamo utilizzato un Beyerdynamic G201, poi come room RTF, quindi una room un po' più lontana in stereo, abbiamo utilizzato due octava MK012, come room un po' più vicino abbiamo utilizzato un 47 della warm audio, quindi microfono valvolare, e come overhead abbiamo utilizzato due RB500 di Doman della T-Bone messi in spaced pair. Per tom e timpano ho utilizzato due Sennheiser MD421, questa è una batteria che suona molto bene, suonata da un batterista che sa suonare molto bene, quindi dubito che avrete problemi a farla uscire bella, quindi cercate di metterci più impegno possibile. Le chitarre sono un bel po' ma in realtà perché le abbiamo spezzettate in parti durante la ripresa, e vedete sono divise per nome, quindi G1B è una chitarra, G1C è un'altra chitarra, G1D è un'altra chitarra ancora, e ognuna di queste chitarre è ripresa con un microfono a nastro che era un Golden Age R1, e un microfono dinamico vintage che era un Electro Voice DS35, quindi anche qui due microfoni per chitarra, semplicissimo. Poi nei synth c'è solo un Mellotron che abbiamo fatto con un Arturia e poi renderizzato, quindi nulla di che, e poi tre tracce di voce, questa qui è la main V1, quella di Riccardo, e poi ci sono due voci di Mattia che fanno i cori. Quindi insomma poche tracce fatte bene, tutto semplicissimo, importate queste tracce dentro la Do e mixate il pezzo, lo esportate, mixato e masterizzato a un volume decente in MP3 320 e lo mandate alla mail che ho fatto apparire prima in sovrimpressione, che vi faccio riapparire ma che troverete anche in descrizione. Ovviamente in descrizione faccio un riassunto di tutto quello che ho detto in questo video in modo che sapete come muovervi, semplicissimo, direi che non c'è altro da aggiungere se non l'augurarvi buona fortuna. Spero che partecipiate a questo contest, spero che ci mandiate dei mix belli come al solito, perché le altre volte tanti di voi ci hanno mandato dei mix davvero notevoli, quindi non vedo l'ora di sentire quello che combinerete. Insomma, di nuovo in bocca al lupo, direi che per oggi è tutto. Love!